Partiti i cavalli del premio Cesare Mercalli, la quinta corsa del pomeriggio, 2200 metri da percorrere in pista grande. Estremoz, Unique Diamond e soprattutto Absolute Silence sono quelli che hanno colto una migliore partenza. In quarta ci si mette Fico senza spine, intenzionato comunque a farsela sui primi. Dietro a questi troviamo l'altro gruppetto che si è creato con Halapegno e l'altra giubba gialla, quella di Nile Star, il favorito che si è sistemato in settima posizione lungo lo steccato. A chiudere il gruppo troviamo Cascio indiavolato. Questo è il plotone dei partecipanti con Absolute Silence ancora davanti nei confronti di Fico senza spine in questo momento. In terza c'è Unique Diamond, in quarta Estremoz, in quinta c'è la giubba gialla che è quella di Halapegno che ha all'interno il favorito Deeper Dive. Poi l'altra giubba gialla che è quella di Nile Star che galoppa in coda con il suo esterno Cascio indiavolato. Andatura regolare per la categoria, non ci sono stati particolari strappi in questa fase con Absolute Silence, Fico senza spine, Unique Diamond che procedono così in testa al gruppo. Poi Deeper Dive che agisce lungo lo steccato, Halapegno e Estremoz il primo a essere già richiesto. Poi Nile Star e Cascio indiavolato con il gruppo che si è raccolto degli otto partecipanti che sono in circa cinque lunghezze. Absolute Silence ripartito sul pungolo di Unique Diamond. I due comunque stanno gestendo i parziali con Estremoz che è andato un po' in pressione, Fico senza spine che si è posizionato lungo lo steccato. Poi ancora Halapegno, Nile Star, Cascio indiavolato e ancora Deeper Dive che è rimasto arroccato alla corda. Cavalli che vanno ad affrontare la dirittura d'arrivo nelle medesime posizioni di prima con Absolute Silence in vantaggio nei confronti di Unique Diamond. Poi Fico senza spine, ancora Halapegno, Nile Star, Deeper Dive che invece fa lo slalom tra i cavalli. Cascio indiavolato che è il primo ad agire dal centro la pista, l'unico che perde terreno in questa fase è Estremoz con gli ultimi 600 metri. Ancora Absolute Silence in vantaggio nei confronti di Unique Diamond. Poi Deeper Dive che da lì non ha lo spazio, dovrebbe nebulizzarsi. E allora in quarta posizione Halapegno che prova a rinvenire con Nile Star. Ancora più all'esterno c'è Cascio indiavolato con Unique Diamond ancora davanti. Ha respinto il primo attacco di Absolute Silence, i due che si staccano in lotta con Nile Star che tenta la rincorsa Halapegno che è rimasto lì così come tutti gli altri. Allora Unique Diamond ha dato un'altra accelerazione, ha preso circa quattro lunghezze. Adesso l'unico avversario è se stesso perché Unique Diamond ha fatto i conti molto molto bene e vince facile Cesare Mercalli nei confronti di Unique Star e per il terzo posto Absolute Silence. Seconda vittoria a seguire per Unique Diamond, 4,76 la quota al totalizzatore Germano Marcelli in sella. Il training è quello di Maia Salvioni, così come i colori, vince il numero 3 dello schieramento per figlio di English Channel. Era la vittoria numero 7 in carriera. A secondo posto Nile Star è il numero 6 e per il terzo il 4, Absolute Silence, numericamente lo ricordiamo 3, 6, 4. È l'ordine d'arrivo del Cesare Mercalli 2019. Dalla nostra postazione è tutto. Grazie a tutti.